Io non chiederò a nessuna corrente di sostenermi, né vorrò il sostegno di qualsivoglia corrente. Io rispondo invece positivamente all'appello di tanti e tante che dal territorio mi hanno scritto e chiamato per dirmi ti sostengo Stefano. È venuto il momento di riprendere il cammino in tanti e in tante, forti dei nostri valori, della nostra appartenenza, della nostra capacità di innovare e soprattutto il sogno di costruire una società diversa, più giusta e di tutti. Grazie. Grazie.